la cicocca o la bicocca piccolina qua dovrebbero venire a giocare i bambini dei genitori che vengono nel vivaio e sembra di essere un partigiano nel 43 che c'erano rifugi così pure con i fornellini beh sta un po stretti ma non si sta scomodi come per leggere o scrivere qualcosa se ci fosse più luce vi ho fatto vedere persino la cicocca o la bicocca del vivaio beh adesso me ne esco la verità è che è un po' incomoda ritorniamo ai pesci che così vi illustro con questo esempio dopo questa figura di merda che ho fatto il ciclo della vita